In questo video si vede la doratrice del laboratorio Federici dare una mano di laccatura nera sulla riproduzione di una cornice romana del Settecento. Si tratta della seconda mano di lacca, qui si vede da un'altra angolazione il procedimento, questo tipo di cornice romana nera e oro è una tipica cornice del Settecento molto usata per nature morte e paesaggi. Potete visionare la foto sul sito internet www.corniciantiche.it e si tratta del codice numero 12.